Porca puzzarda, vedo Homer Simpson che sta maneggiando con della carne Tutto c'è veramente schifoso E vedo che sta facendo delle cose, ok, sembra che se ne stia andando Perfetto, io lo seguirò, eh, raga, assolutamente Cosa c'è qua dentro? C'è una mia testa, il che non è bello E c'è un po' di Redstone che dovrebbe simulare della carne Allora, dove è finito il signorino? Aha, oh mio Dio no, forse mi ha visto, raga, stiamo attenti Qua i signorini possono fare del male No, 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 no Potrebbe vedermi, potrebbe vedere, non posso Non posso assolutamente prima vedere da Homer Simpson Anche perché se lui mi vede, dopo, chiaramente, non si comporterà più in modo strano Allora, io sto andando nella neve, ok, perfetto Però è veramente lenta questa neve, raga Sta spargendo della carne in giro, il che è veramente strano Com'è possibile questa? Cioè, perché sta facendo tutto ciò? Peraltro, io non ho capito, cioè, sta cercando forse di attirarmi? Cioè, pensa che io sia tipo un mezzo carnivoro, non ho capito Perché magari lui mi ha visto e potrebbe anche essere, raga Perché mica è stupido Homer Simpson Cioè, in realtà, sì, è molto stupido Però, nel senso, lavora in una centrale nucleare, voglio dire Forse, magari, intelligente Perché sappiamo che le persone che lavorano veramente nella centrale nucleare sono intelligenti Porca puzzardona, scurreggia Accipicchia, ok, perfetto Andiamo da questa parte Dobbiamo stare molto attenti perché qui il signorino potrebbe essere dietro ad una di queste porte E noi non lo vogliamo Vero? Ho paura di quello che si potrebbe trovare qui, accipicchiona Allora, ma porca puzzarda, non riesco più a capirci niente Oh, stiamo attenti, raga Mi potrebbe vedere No, 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 raga, è lì Ah, ok, perfetto C'è un blocco qua che ci può tenere nascosti Cosa sta facendo? Lo vedo con la visione Però voi non lo vedete perché c'è la mia faccione in mezzo, eh Accipicchia Però ho visto effettivamente Allora, attenzione che qua c'è Ci sono le TNT E ho visto che lui ha messo un muro Lì, secondo me, nasconde un gran segreto Perché io l'ho visto Voi non l'avete visto perché appunto c'è la mia faccione in mezzo Credo che stiamo mettendo delle TNT apposta Ok, porca puzzarda Allora, devo andare da questa No, per carità, San Per carità, San Hanno esploso tutto proprio, raga E qua effettivamente si cade proprio sotto nel void Allora, devo essere molto destraggiante E praticamente devo uscire qua, ok Perfetto Ok, perfetto Sono vivo Allora, dove caspita è finito Quello Homer Simpson Psicopatico che non è altro Porca puzzarda Iscrivetevi al canale, per favore